e allora ciao ragazzi e vi volevo fare vedere una cosa come io do il calcio ai miei pennuti come vedete sono uova o bucce di uova perlomeno li ho pulite prima con lo spazzolino vedete che sono belli bianchi sono puliti poi li ho bolliti a 90 gradi di conseguenza sto usando il mix come vedete vi metto qui e vi faccio vedere come diventano certo devo lavorare con una mano e una mano devo tenere il mio telefono se vado a pensare appunto l'alimentazione naturale guardate ora lo mettiamo qui questo è l'uovo che sono andato a triturare quindi il calcio di quest'oggi poi sicuramente come vedete qui ho il couscous che lo vado a mettere sempre qui all'interno dovete considerare una cosa molto importante vedete si va a appiccicare tutto nel couscous perché il couscous un po' umido c'è ora lo sgrano tutto ora praticamente quello che vi volevo dire è qui c'è un'acqua macerata macerata con sempre lo zenzero quello che vi dico prima aglio e chiodi di carofano ora il tutto dovresti andare a guardare su internet così tanto per dire vediamo cosa fa sto zenzero sto aglio e questi chiodi di carofano per andare a vedere in un certo senso i benefici che portano ai nostri animali perché questo è importante poi alla fine quello che riusciamo a dare realmente ai nostri animali io tutti i giorni faccio questo come vedete guardate come viene quindi è molto ricco anche se io vi dico per esempio che non do tante cose che davo prima giustamente ma già se tutte le mattine vado a mettere zenzero aglio e chiodi di carofano con chiodi di carofano già detto tutto e questo come vedete è l'inizio ho messo le bucce di uova che sarebbe il calcio ho messo il couscous e ora andiamo a mettere i nostri semi senza aggiunta di pangrattato il pangrattato lo vado a mettere nel momento in cui vado a colorare cioè quando i pulli giustamente avranno 35 40 giorni niente il cane che sta abbaiando e niente questo era quanto vi volevo suggerire e capire un pochettino la mia alimentazione di tutti i giorni niente ragazzi era questo che volevo farvi notare ciao a tutti e speriamo che questo video sia sempre di vostro gradimento